Un pugno alla droga e non solo in senso figurato. I pugni calci sono infatti quelli degli allenamenti di pugilato e di kickboxing di decine di atleti che lunedì sera si sono allenati al Parco Miralfiore rispondendo alla chiamata di Alessandro Giardini che con la sua campagna antidroga Prevaction continua a moltiplicare eventi di aggregazione che si riappropriano di luoghi altrimenti destinati a spaccio e criminalità. Sono veramente contento di quanti ragazzi hanno aderito, con quanta passione, con quanta decisione e con quanta condivisione dello stesso obiettivo perché io prima di iniziare ho fatto 10 minuti di briefing con tutti i ragazzi dove gli ho spiegato il perché anche se già si era capito però volevo cogliere in loro quella lucentezza negli occhi che mi dicesse sì anche noi siamo con te, anche noi partecipiamo a questo evento proprio perché siamo d'accordo alla lotta contro la droga. A rispondere all'appello ragazzi e ragazze delle palestre Attiva Combat e gli area Shigari che hanno scelto il verde del Miralfiore come luogo destinato a ripetersi. Un luogo da vivere appieno anche dalle famiglie e dai bambini pesaresi scossi ma non scoraggiati dal recente episodio di denuncia di una bambina puntasi con un ago non lontano dal parco giochi come ricorda Francesco, fratellino di Alessandro Giardini. Mi dispiace veramente per questa bambina perché penso che non debba succedere un episodio del genere in dei parchi dove anche alla nostra sinistra troviamo i giochi e ho visto pure prima tanti bambini che passavano e veramente mi dispiace tanto spero che non rischia nessuna malattia, niente, spero che ritorni qua a giocare con i suoi amici e di non pensare all'accaduto. Il parco deve essere vissuto, deve essere vissuto dalle realtà sportive come oggi pomeriggio, dalle realtà culturali, abbiamo tutta una serie di iniziative culturali in queste settimane e anche dalla realtà come ad esempio utopia. Quindi diciamo che la sicurezza del parco tocca tanti settori e a mio modo di vedere la sicurezza deve avere sempre una visione trasversale, deve essere una sicurezza a livello sociale ma deve essere anche una sicurezza che attraverso iniziative culturali, educative e sociali porta ad un parco vissuto dalla cittadinanza. Ovviamente poi con il sindaco, con gli assessori cercheremo di fare in modo che questo parco possa essere un luogo sicuro attraverso tutte queste iniziative e anche attraverso una grande collaborazione che c'è in queste ultime settimane anche con le forze dell'ordine. 3, 2, 1... Viva l'Oripa! Viva l'Oripa!